benvenuti alla quarta e ultima puntata dedicata al raduno che si è svolto a colle di valdezza organizzato da ruote classiche di toscana oggi vedremo delle belle sportive cominciando con una carrellata di porsche grazie a tutti ce ne sono di vari tipi e a forza di ammirarle siamo riusciti alla fine ad intercettare un proprietario oggi siamo con Giovanni a questo raduno con la sua bellissima Porsche 993 che diciamo di questa Porsche Giovanni? di che anno è? questo è un Porsche 993 4S del 1996 del 96 e fra l'altro è molto particolare perché queste ne hanno fatte pochissime perché ha un accessorio chiamato X51 vale a dire il motore invece che 3.600 come tutte le altre è 3.800 e invece di 285 cavalli è 300 cavalli di questo modello qui in Italia sono state importate solo 6 ah ecco sì che ce ne sono soltanto 6 addirittura una è stata distrutta nel Pisano quindi in teoria quindi è una rarità veramente una rarità questa è davvero particolare accidenti è molto tempo che ce l'ha questa? no l'ho presa l'anno scorso ecco lei è un appassionato Porsche e gli piacciono questi modelli? sì ci sono altre altre modelli ah caspita complimenti anche Alfa Romeo e Lanciat eh complimenti complimenti sì possiamo vedere il motore giusto per avere un po' un'idea? bellissima questa Porsche ecco qua c'è un po' d'ombra che cilindrata è abbiamo detto? 3.800 3.800 mentre tutte le altre ce ne sono 3.600 ecco era un accessorio che all'epoca costava circa 20 milioni 19 milioni e mezzo eh caspita caspita molto particolare sì davvero una Porsche rara ecco unica la Porsche 993 è di fatto l'ultima generazione della 911 con il motore raffreddato ad aria fu prodotta dal 1994 al 1998 e rispetto alle serie precedenti ha diverse novità come per esempio le sospensioni posteriori multi-link che ha obbligato i designer a ridisegnare i passaruota che appaiono più stondati e larghi e di conseguenza per raccordare questi elementi con il resto della carrozzeria si è dovuto ridisegnare gran parte della Mirati e poi abbiamo per la prima volta un cambio a sei marce e nuovi collettori di aspirazione a geometria variabile che donano più potenza a 3.006 boxer 6 cilindri disponibile all'inizio in versione coupé la carrera e coupé a quattro ruote motrici la carrera a quattro a partire dall'anno successivo si aggiunsero via via la versione targa turbo carrera s carrera quattro s turbo s e infine la carrera rs con motore aumentato a 3.008 di cilindrata però come ci ha spiegato Giovanni l'aumento di cilindrata e di potenza lo si poteva avere anche sulle altre versioni come optional grazie all'acquisto di un kit chiamato X51 a presto a presto il a presto metà a presto a presto i Grazie a tutti. Allora grazie Giovanni per averci presentato la tua bellissima Porsche e un saluto da Motorbiani, ciao! Grazie a voi! Ciao Giovanni, ciao! Ma dopo questa scorpacciata di Porsche andiamo a vedere quella che tra gli anni 70 e 80 fu, potremmo dire, una sua rivale italiana, la Maserati Merak. Grazie a tutti. Ecco Oliviero oggi con noi che ci parla della sua bellissima macchina, di che macchina si tratta Oliviero? Questo è un Maserati Merak 2000 GT, praticamente queste macchine sono nate 3000, però quando venne la famosa legge sull'IVA delle macchine sopra, 2000 le erano penalizzate, inventarono il 2000, cioè si mise con testa per vendere il 2000. Questa è una delle cento e poche macchine, di fare 100 mila, il 3000 ce n'è di più, circa un migliaio, però di queste viste ce n'è 100 e brutti. Questa è una delle cento e brutti, rimaste, che esistono, rimaste. Niente, è un... Di che anno è? Questa è del 77. 77? 77? Assolutamente, però il problema è l'approvvigionamento, quando succede un guaio, l'approvvigionamento dei materiali. Dei pezzi, eh? Io a Modena ce l'ho fatto idiotolo, eh, è difficile, eh, certo. Cioè, il problema è quello, è quando... tu sai che questa è una passione che sei disposto a spendere. Sì, certo. Purtroppo è così, fai a di meno d'altre cose perché non è che... Certo. Però il problema è quando scendi una pompa dei freni che non c'è, è come se stessi oggi a fare il giro, di tutti i barri qui di Colle, dice, ma non c'è l'altro, non esiste, ma ti do 1000 euro, non c'è. Certo, certo, è sì che tutte le volte a Modena deve andare. A Modena, se no, ancora c'è internet. Ah beh, su internet qualcosa si trova, certo. Però, insomma, bisogna stare attenti perché gira tanta roba tarocca, da tutti. Cioè, questa è una macchina, onestamente, è una macchina omologata ASI, praticamente come mamma l'ha fatta, come uscita da Modena. E così, eh, quindi è assolutamente originale, vero? Sicuramente originale, questa c'è, c'è il riconoscimento dell'ASI. Sì, il cartellino, certo. Che ha passato tutte le visite possibili e immaginabili, la trapezzeria, il tutto. Tutto quello che l'ASI fa per dare appunto il riconoscimento. E purtroppo che ha passione a queste cose. Certo. Le possiamo chiedere la cortesia di vedere il motore? Sì. Grazie. Grazie. Ecco, vediamo appunto il cartellino ASI, sì. Esatto. Questi gli intendi sono i suoi originali. Ecco, gli intendi sono i suoi originali. Anche se sono brutti. No, non sono brutti. No, non sono brutti. No, restamente questi quadri non è che siano da finire di mondo. Però lo impadriamo. Ecco, vediamo il motore di 2.000 appunto. Magari c'è questa ruota di scorsa che il problema di questo motore è che per un discorso di paricentri hanno fatto il motore centrale praticamente è incuneato fra le due sedute di dietro diciamo. Il problema è che quando c'è da intervenire bisogna, te lo faccio vedere, perché è una ossa particolare. Sì. Cioè se io ho da mettere un manicotto e che cosa, io devo tirare su quella vilpelle lì. Ah, ecco. E da lì c'è una finestra con delle visi, si leva questa finestra e si accende il motore. Ah, ecco. Ah, dall'interno. Quindi bisogna aprire questa finestra dall'interno. Sì, sì. Praticamente qui davanti c'è il radiatore dell'olio, il radiatore dell'acqua, passano così lì e vanno il motore. Certo. E sono col manicotto incanalati nel blocco motore lì, qui di dietro. Sì. Se io devo cambiare il manicotto bisogna che avrà lì altrimenti il manicotto non si cambia. Ecco. Non c'è da dire nel mio motore. Eh. Se non lo lavi poi e tu devi rimettere il manicotto con forza. Certo, certo, certo. È un po' complicato nella manutenzione, vero? Anche negli interventi. In parte di quello ci sono un po' le scatole, se no, per soddisfazione. Eh, beh, certo. Qualcosa bisogna fare, no? Anche per passare il tempo. O se rompi le scatole con problemi familiari. Sì, sì, sì. Eh. Certo, anche la macchina verso il problema. Eh, certo. La Merak era nata nel 1972 in risposta alla crisi petrolifera. Si trattava, infatti, di una versione di gamma inferiore alla Maserati Bora. Molto simile esteticamente, disegnata sempre da Giugiaro, la Merak rispetto alla Bora era un 2 più 2 invece che uno a due posti secca e aveva il motore 6 cilindri a V di 3.000 di cilindrata invece di un V8 4.700. All'epoca Maserati era di proprietà Citroen e molti elementi della Merak erano di derivazione Citroen, come il cambio, il volante e altre cose, mentre il motore V6 era stato progettato da Maserati per equipaggiare la Citroen SM. Nel 1976 la Maserati fu acquistata da Alejandro De Tommaso. Da questa data in poi la componentistica Citroen fu sostituita. Non solo, la nuova proprietà ha deciso di fare una versione di cilindrata ridotta per il mercato italiano, per evitare l'estrema tassazione che avevano le vetture sopra i 2.000 di cilindrata nel nostro paese. Nasce così la Maserati Merak 2000 GT. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la famosa cassetta degli attrezzi, che ora con le macchine nuove non ti danno neanche i cricchi. Ah no, neanche un colore. Lì se io apro il pacotto di roba, c'è il martello, le chiavi, cacciaviti, pinze, c'è una fiscina. Sì, davvero, oggi sì, neanche una vite. No, oggi non ti danno neanche... Benissimo. Qui c'è il colore, c'è il... Ecco, questo? E quando si guasta questa roba, suona a morto. Eh sì, quando si guasta questa roba, eh? Sì, io a Modena sono fatto di morto. Io l'ho comprata da Candini a Modena. Ah, ecco. Un buon meccanico, onestamente, lavorava nel reparto corso maserati. Ah, ecco. E poi io ho fatto l'officina e è una persona valida, cioè la classica persona, una persona anziana che sa vita, morto e miracolo, gli dici, mi fa quella, si va lì. Io l'ho rimiso in carburazione, gli chiesi, ma ci vuole lo strumento? Ma che strumento? Dammi tu la ciaviti. Vai. Candini di Modena, vero? Ecco, diciamolo, così gli diamo onore perché è un ottimo meccanico che già tanto si dedica a queste macchine con passione. C'è problemi di chiusura? Eh, anche questa, eh? Ai ai. No. Niente, si fa sicurezza, proviamole di essere. Ecco. Poi a casa... A casa ne riparliamo, vero? È certo. Chiudiamo di là, entrando dentro, e niente, è l'unica alternativa. E buttiamo giù il pispolo. Eccoci qua. E abbiamo chiuso la Maserati. E poi a casa ne riparliamo, certo. Ecco qua. Vediamo se si chiude anche l'altra portiera. Speriamo di sì, l'altra dovrebbe avere problemi. E voilà, la macchina è chiusa. Allora, grazie Oliviero, grazie mille per aver partecipato a Motorbiani con questa bellissima Maserati. Grazie, ciao. Allora, grazie a lei, perché la mia moglie mi chiede... Ai ai, rispondi. Lasciando Oliviero alle prese con la moglie, noi concludiamo la puntata e l'intera serie. Vi diamo appuntamento innanzitutto a lunedì prossimo con la seconda puntata del raduno Alfa Romeo, un giorno con il mito. Ma vi diamo appuntamento anche a giovedì prossimo sul nostro secondo canale, per un video special su questo raduno di Colle di Valdelsa, dove vedremo tutte le vetture che non sono rientrate nelle quattro puntate. E poi, ancora sul Motorbiani Special, sabato ritorna il nostro documentario sulla storia della Fiat anno per anno, con un ciclo di ben sei puntate dedicate al 1903. Sabato vedremo la prima. Non mancate a tutti i nostri appuntamenti. Ciao a tutti!